Un trauma cranico ha causato la morte di Roberto Volpe, l'operaio 45enne di San Mauro Cilento, deceduto giovedì scorso mentre lavorava all'interno dell'impianto di produzione Calcestruzzi Castelbeton di San Marco di Castellabate, di proprietà della famiglia del sindaco di Castellabate Costabile Spinelli. Lo ha stabilito l'autopsia effettuata ieri presso l'ospedale di Vallo da parte del medico legale Francesco Lombardo. Terminato l'esame, il cadavere del 45enne è stato restituito ai familiari per i funerali che si svolgeranno oggi presso la chiesa della dolorata San Mauro Cilento. L'operaio giovedì scorso si trovava all'interno della vasca di raccolta delle acque prodotte dal lavaggio delle betoniere. Stava provvedendo a rimuovere l'eccessiva sedimentazione del cemento riponendolo in un cestello legato con una corda al braccio idraulico di una pompa che fungeva da elevatore, manovrata da un altro operaio. Durante l'operazione si è azionato il sistema a pale rotanti che ha colpito l'uomo tra cranio e collo provocandone la morte immediata. Al momento il suo indagato per questa vicenda resta l'amministratore dell'impresa Alessandro Spinelli, fratello del sindaco. Da chiarire anche le posizioni di almeno altre due persone. A difendere la famiglia dell'operaio è l'avvocato Gaetano Di Vietri, mentre ad assistere la Castelbeton ci sono i legali Domenico Amatucci e Massimo Farro.